Allora, siccome io sono, l'ho detto, una femminista, Gigi la parola, il ministro subito, Luciana Lamorgese, perché mi dispiace per le cariche istituzionali, ma voglio partire subito da lei, anche perché è un ministro in prima linea, lo dicevamo prima, ministro che lavora quotidianamente, allora Gigi sbarra, lo dice da tempo, non possiamo accettare che i criminali, la mafia, si occupino di pezzi dei fondi che arrivano dall'Europa. Mario Draghi, il nostro presidente del Consiglio, qualche giorno fa la DIA a Milano, ha parlato proprio di mafia e ha chiesto di rialzare l'attenzione. Siccome il tema c'è e i fondi ci sono, perché non sono solo i 250 miliardi, ma sono le risorse del Fondo Sviluppo Coesione, ci sono risorse nazionali, c'è veramente una pioggia di soldi come mai questo sistema paese ha avuto. Speriamo che le risorse siano legate alle riforme, come nello spirito essenziale del PNRR, però speriamo anche di riuscire ad evitare un rischio reale di inquinamento. Allora, la prima domanda è quanto è reale, quanto è concreto e quanto è vasto il rischio di inquinamento e cosa si può fare, cosa lei già sta facendo per riaffermare quella che io dico che è la sua battaglia, quella della glasnost, la chiamavano così, la trasparenza. Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno. Grazie, consentitemi innanzitutto di ringraziare Luigi Sbarra, il segretario generale della CISL. Io ritengo che è stata una bellissima introduzione quella che lei ha fatto, perché ha toccato dei punti fondamentali, ricordando anche i passaggi della nostra storia come paese Italia. Ringrazio ancora una volta la professoressa Falcone, con la quale abbiamo un rapporto continuo, poi soprattutto in questi giorni abbiamo avuto varie manifestazioni a cui abbiamo partecipato insieme e da ultima parte il 23 maggio, dove la professoressa Falcone a Palermo ha dato la possibilità a classi intere di ragazzi di partecipare a una manifestazione di ricordo, di celebrazione di quell'ecidio di Capaci. Secondo me è importantissimo perché i ragazzi, parliamo di giovani che non hanno vissuto quella stagione e quindi soltanto con la presenza di tutte le istituzioni ai massimi vertici, probabilmente giorno dopo giorno è un concetto questo di sconfiggere la mafia, che la mafia comunque esiste, perché non dobbiamo pensare che nonostante la copiosa produzione normativa di questi anni abbia consentito di sconfiggere definitivamente. No, la mafia muta facilmente le proprie sembianze e il fatto che le muti noi dobbiamo seguire perché anche con nuova fisionomia comunque rappresentano un rischio per la nostra sicurezza, per il nostro Paese e vorrei dire soprattutto in questo momento, quando abbiamo risorse del PNRR, risorse che verranno destinati agli enti locali, per cui ci sono progetti già in corso, abbiamo dei tempi stabiliti e non possiamo rischiare assolutamente perché i fondi del PNRR serviranno per il rilancio del nostro Paese e quindi è prioritario che vengono utilizzati bene e che vengano schermati dalle mafie e dalla criminalità organizzata. Cosa stiamo facendo noi? Noi stiamo facendo non certo da ora perché se noi consideriamo anche le modifiche che abbiamo fatto al codice antimafia proprio nel 2021 che è la prevenzione collaborativa ed è molto importante perché c'è l'esigenza di non andare a incidere sulle imprese che hanno avuto contatti occasionali con la mafia. Diamo un'opportunità tramite controlli da 6 a 12 mesi che verranno fatti in maniera puntuale all'esito di questo periodo, poi si deciderà se l'impresa è giusto che venga salvata o se occorre procedere con le interdittive. I prefetti sul territorio stanno operando, io vorrei dire per esempio nell'anno 2020 abbiamo avuto circa 2.200 interdittive a fronte di 1.500 e qualcosa dell'anno precedente e già ora noi siamo a 543 mi pare e quindi vuol dire che è un'attività molto costante che viene effettuata dai prefetti proprio per valutare se un'impresa è sana, se non abbia rapporti con ditte e con società mafiose. però io vorrei qua richiamare un'altra questione molto importante che è quella della capacità reputazionale delle imprese perché non può essere lasciato tutto esclusivamente nelle mani delle forze di polizia, della magistratura che sempre ringraziamo per l'attività che ho giorno per giorno e non da ora portano avanti, ma sono anche le imprese stesse che dovrebbero adottare dei codici di comportamento, delle modalità organizzative che possano davvero aiutare l'impresa a crescere ma a crescere secondo i principi di un'economia legale. Noi consideriamo una cosa che laddove andiamo a toccare le risorse del PNRR, noi andiamo a toccare lo sviluppo, lo sviluppo è laddove un'impresa collusa entra nel circuito della finanza, dell'economia, certamente c'è un inquinamento e su questo noi poi laddove non riuscissimo a mettere tutti gli anticorpi in anticipo ne avremmo poi le conseguenze dopo, quindi è la società civile, sono le imprese, siamo noi, siete voi e allora io devo dire che le organizzazioni sindacali rappresentano un punto davvero di snodo, io credo che noi dobbiamo rafforzare quelli che sono i rapporti di collaborazione con le organizzazioni sindacali, perché sono importanti anche per i messaggi che lanciano, tipo quelli lanciati oggi, se noi pensiamo quanti sono iscritti alle varie sigle sindacali e quindi come ciò può fare la differenza nel dare degli input che arrivano positivamente in coloro che sono partecipi delle attività che vengono portate avanti, quindi rafforzare questa collaborazione fondamentale e poi se vogliamo dirla tutta l'abbiamo ripetuto più volte in questi giorni di rievocazione di Via Capaci ci ritroveremo tra poco il 19 di luglio con Via D'Amelio, quindi con gli uomini della scorta che sempre dobbiamo ricordare e allora vorrei dire che la mafia, il peggior investimento che ha potuto fare è stato proprio aver pensato di fare questi due attentati perché è stato l'investimento peggiore, perché c'è stata una scossa oltre che delle istituzioni ma quello che è importante la scossa della società civile, questo è quello che da allora è partito un movimento che li ha visti sempre di più messi all'angolo la mafia, d'altra parte oggi noi dobbiamo considerare che siamo in un mondo globalizzato e anche la mafia è globalizzata nel senso che non possiamo pensare di difenderci dalla mafia in ambito regionale, in ambito nazionale ma dobbiamo andare in ambito transnazionale, ormai questo l'abbiamo intuito, basta dire che abbiamo accordi con i paesi dall'America, quando eravamo l'altro giorno a Palermo abbiamo fatto un incontro con ministri dell'America Latina quindi sono progetti che stanno andando avanti, sono progetti che si nutrono anche del lavoro, dei tavoli tecnici che portano avanti misure fondamentali per la legalità nel nostro paese e allora se vogliamo il punto fondamentale è proprio questo, ma vorrei poi ritornando nel nostro paese noi abbiamo un'altra piaga che è sempre connessa alla piaga della criminalità organizzata che è quella del caporalato Allora, su questo qua noi dobbiamo spendere tutte le nostre energie devo dire che con il ministro del lavoro stiamo lavorando insieme, lui ha il tavolo di contrasto per il caporalato io ho fatto nell'ambito del ministero dell'interno una consulta proprio perché vengono esaminate le misure di contrasto e il piano anche che è stato fatto dal ministro del lavoro anche con l'ausilio del ministero dell'interno a quattro pilastri noi abbiamo quello del contrasto scusate meglio così allora abbiamo quattro pilastri che è quello del contrasto del caporalato di dare delle condizioni più umane voi pensate che la media della retribuzione è il 50% in meno di quello previsto nei contratti collettivi bisogna dare anche delle situazioni collocazioni abitative che rispettino la dignità umana noi siamo un paese democratico e su questo richiamo quello che ha detto la professoressa Falcone anche nei confronti di Rina e di tutti coloro che sono nel 416 bis il nostro paese non ha mai rinunciato a quei principi di democrazia che sono alla base del nostro paese perché il metodo che lo Stato deve usare è un metodo assolutamente antitetico al metodo di intimidazione seguito dalle mafie il nostro metodo è quello che ci ha dato falcone borsellino che è un metodo di intransigenza di coraggio coraggio delle scelte ecco se noi seguiamo questi principi la strada ce l'hanno tracciata loro noi dobbiamo soltanto seguirla e allora quello noi stiamo facendo anche per il caporalato voi pensate Borgo Mezzanone Castelvolturno noi abbiamo fatto dei progetti con i fondi fami abbiamo fatto dei progetti con le regioni la Puglia e la Campania per lo smantellamento dei moduli attualmente di quelle condizioni invivibili dando dei moduli abitativi e soprattutto se ne pensiamo anche il trasporto fatto dai caporali purtroppo è un punto nodale su questo anche noi dobbiamo incidere e lo stiamo facendo noi nei fondi fami sono circa 30 milioni dal 21 al 2027 abbiamo già speso con i fondi PON Legalità circa 43 milioni stiamo mettendo in campo tutta una serie di attività e vorrei ricordare da ultimo pochi giorni fa con il ministro Orlando abbiamo siglato un protocollo per inserire nel circuito lavorativo migranti che hanno la protezione internazionale perché? perché noi dobbiamo cercare di accelerare i sistemi di approvvigianamento anche di mano d'opera da fuori ma con sistemi legali certamente la situazione di quei paesi e parlo della situazione dell'Africa la situazione che abbiamo alle porte anche dell'Italia il conflitto ucraino con la Russia il conflitto bellico la crisi del grano dei cereali bloccati voi considerate che la Tunisia che l'Egitto i paesi del Nord Africa e non solo si riforniscono di grano e di cereali per il 50-60% dall'Ucraina e dalla Russia e allora questo che cosa comporterà? comporterà certamente se non si mette un freno a questo ma abbiamo visto anche il presidente Draghi ieri ha avuto una telefonata con il presidente Putin proprio per cercare di sbloccare ed evitare che cosa? una gravissima crisi umanitaria una gravissima crisi umanitaria che vista la situazione geopolitica anche di quei paesi certamente andrà ad incidere sui flussi i flussi migratori il che poi non si potrà dire che è la Lamorgese che fa arrivare i migranti in Italia la situazione al di là di quella che diciamo la propaganda va affrontata in maniera seria va affrontata perché la migrazione è un problema strutturale da sempre perché io ricordo quando noi italiani gli italiani andavano fuori e poi noi abbiamo visto negli anni con la crisi delle primavere arabe ci hanno portato numeri elevatissimi io seguivo queste cose perché nella mia nelle mie precedenti responsabilità quindi è un problema che abbiamo affrontato da anni e certamente oggi ci troviamo dopo lo shock pandemico che ci ha provato enormemente e ha provato anche quei paesi adesso ci troviamo ad affrontare un'altra gravissima crisi noi nessuno di noi credo se l'immaginava di vedere una guerra così vicino a noi e allora tutto ciò naturalmente ci deve far riflettere ma deve far riflettere in Italia ma deve far riflettere l'Europa deve far riflettere il mondo perché io credo che il mondo che noi conosciamo probabilmente dopo questi due gravi momenti che tutto il mondo ha vissuto eh dovrà sarà diverso dovrà rifarsi un poco darsi riprendere le misure e allora è importante anche che ci sia un ruolo dell'Europa nell'affrontare un problema che è complesso un problema strutturale e io il 3 e il 4 giugno era l'abbiamo programmato in quest'ultimo mese faremo un incontro a Venezia con i ministri del Mediterraneo per affrontare insieme questi problemi che purtroppo toccano in prima battuta i paesi in prima linea e voi è certamente un problema che tocca l'Europa perché quando arrivano sulle nostre coste arrivano perché è il modo per arrivare in Europa e quindi su questo noi dovremmo certamente prendere delle iniziative come quelle che stiamo portando avanti anche in seno all'Europa e ai consigli europei dove abbiamo partecipato in questi due o tre anni in cui sono ministro dell'interno con gli altri paesi per cercare di portare anche nell'ambito della presidenza francese a un documento speriamo di riuscire a chiuderlo proprio in relazione al patto migrazione e asilo di cui si parla da anni e che fermo da anni quindi voglio dire tutto ciò che per dire che i problemi sono tanti i problemi che noi stiamo affrontando sono problemi che nessuno ha affrontato e si trovava e immaginava di dover di dover affrontare in prima linea però io credo che facendo squadra ho sempre ritenuto che da soli non si vada da nessuna parte che tutto quello che noi dobbiamo fare andando avendo in mente l'unico obiettivo che non può che essere un obiettivo comune il nostro paese e quindi il titolo oggi di questo panel legalità e lavoro vuol dire legalità e sviluppo vuol dire lo sviluppo del nostro paese e quindi io rinnovo ancora una volta questo diciamo richiamo all'alleanza stretta con le organizzazioni sindacali perché voi rappresentate la parte migliore della società e io credo che insieme noi possiamo fare tanto e lavorare al di là di quelli che sono i principi di propaganda ma andiamo sulla concretezza grazie